Non è che abbiamo perso contro una squadra a debole, è una squadra che fa la Champions, a differenza nostra, è una squadra che è strutturata per dire la sua fino alla fine. Abbiamo perso contro questa squadra, poi, che si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, questo è relativo. Detto questo, oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, a livello di intensità, a livello di pressione, di città e duelli a tutto campo contro una signora squadra che è l'Inter. Quello un pochettino che mi è dispiaciuto è che abbiamo a volte fatto degli errori in uscita molto elementari, su questo noi lavoriamo tanto, però secondo me questo lavoro lo stiamo accumulando, poi prima o poi dovrà venire fuori. Però abbiamo sbagliato alcune uscite, passaggi molto elementari. Capisco anche che c'è giochi davanti a 80.000 persone, giochi contro l'Inter, contro uno stadio che comunque ti rema contro, non è semplice. Chi lavora con me sa benissimo che cerco sempre di trovare qualcosa per cercare di migliorarci. Però molto contento perché, come detto, comunque abbiamo fatto tre trasferte contro tre top club come Juventus, Milan e Inter. In dieci giorni siamo venuti a San Siro e usciamo con quattro punti. nonostante la decisione del rigore abbia, nonostante quella decisione qualcuno abbia provato comunque a creare un qualcosa che sicuramente non mi ha dato molto fastidio. CRC? Ma mi ha dato fastidio il fatto di sentirmi dire che è un rigore inesistente, il VAR non può intervenire perché spetta all'arido. Ma che significa? Ma che significa? Il VAR, se c'è il VAR che è un mezzo per me che può essere d'aiuto, veramente d'aiuto per l'onestà, per l'onestà, cioè il VAR se c'è un errore deve intervenire. Invece adesso si sta creando un protocollo dove si creano proprio delle dietrologie dietro questo protocollo. Perché? Perché a volte io dico no, non può intervenire l'arbitro, cioè un carasceglia spinto contro non mi ricordo chi, cioè rigore clamoroso, sento dire no, il VAR non può intervenire perché spetta all'arido. Ma che significa? Se c'è un errore tu devi intervenire e devi correggere. O altrimenti c'è un errore, chiami l'arbitro, va al VAR, poi l'arbitro conferma la sua scelta. Io sono il primo ad accettare la decisione, ma non che si rifugiano dietro queste cose, perché questa qua crea dietrologia, crea cattivi pensieri. Io cattivi pensieri non ne voglio avere. Io voglio avere onestà intellettuale, a favore o contro. E questo, ripeto, siccome è da un po' che sto sentendo questa cosa, e iniziano un pochettino a girare. Salve mister, uno dei primi concetti espressi durante la sua presentazione fu la solidità. Napoli nelle ultime 12 giornate nello scorso campionato ha preso 18 gol, e le prime 12 di questo sono 9, quindi la metà è la seconda migliore difesa. Volevo chiederle se era questo il dato più importante, quello che dà maggiore soddisfazione, e se dopo queste prime 12 giornate, cosa si è quali miglioramenti si aspetta? Oltre quello della difesa, grazie. Ma guarda, l'equilibrio come vedi, in altre partite avevamo abbassato Politano, oggi Politano l'abbiamo tenuto alto, quindi abbiamo difeso a 4, ed eventualmente il centrocampista assorbiva l'inserimento del centrocampista contro un attacco a 5, quindi c'erano diverse persone che mi chiedevano perché abbassavo Politano, che poi arrivava stanco e coso, io dico ok, oggi l'abbiamo abbassato, nonostante questo abbiamo trovato comunque una buona solidità. La solidità è importante perché se non prendi gollo, come minimo non pareggi, poi se ne fai 1, 2, 3, 4, 5, ottieni 3 punti. E niente, noi dobbiamo continuare a lavorare, a fare quello che stiamo facendo, cercando di far uscire tutto il lavoro che facciamo in settimana, perché noi lavoriamo tanto, ma io penso che questa è una squadra, visto che stiamo lavorando solamente 4 mesi insieme, stiamo accumulando, rispetto alle altre che lavorano da tanto tempo con lo stesso allenatore, diciamo che noi comunque siamo a un buon punto. Detto questo, guarda, mi dispiace che sono un po' rabbiato per questa cosa qua del VAR, ma non per la decisione, perché ripeto, sentirmi dire un'altra volta e no, qua non puoi intervenire, qua puoi intervenire, qua non puoi intervenire, ma la percepisco come una bigliata in giro, è chiaro, ma non parlo secondo me solo per me, ma parlo per tutti gli allenatori, per l'onestà che ci deve essere in giro. Noi vogliamo le cose oneste, se c'è un errore, il VAR deve intervenire, noi diciamo, no, ma aspetta l'arbitro, questo non può intervenire, qua non può intervenire, ma chi l'ha fatto sul protocollo? Ma chi l'ha fatto? Allora cambiano le regole. Se c'è un errore, se c'è un errore, il VAR deve intervenire, ripeto, pro o contro del Napoli, non sto parlando del Napoli, ma perché siamo in calzalinei di tutti quanti? Per questi dubbi che creano comunque delle dietologie. Io voglio stare tranquillo quando sto lì in Pachina, altrimenti su ammunizione e svulsioni mi votano. Ho visto pure che ero votato, ho già quattro ammunizioni mie, il massimo stato, questo è stato fantastico. Cioè vedere che se io mi metto d'accordo con qualcuno a casa e che mi facciamo dire alla quattro, ma chi mai c'è, ragazzi? Siamo veramente... No, le cognome è testata. Buonasera, mola del giorno, sono Antonio. Buonasera. Sono qui. Ah ecco, scusami. No, ma io tornerò su questo aspetto, perché tu, se l'ultimo anni non sei in Serie A, sei tornato in Serie A e ti trovi un'altra volta con questo problema, ma siccome giustamente dici tutti gli allenatori, un discorso di rispetto, ma in queste belle lente, riunioni con gli arbitri, con il disegnatore, cioè chiarirlo una volta per tutti, perché se si deve cambiare il protocollo, e posso essere d'accordo con te, bisogna intervenire tu. Ma chi l'ha messo sto protocollo? Cioè hanno messo sto protocollo per creare confusione. Ma io dico, il VAR, che è uno strumento, a mio avviso bellissimo, perché, ripeto, ti consente di stare tranquillo. Tante volte ti arrabbi, poi gli dicono vai a vedere fuori in gioco, stai zitto, oppure c'è un fallo prima, è uno strumento bellissimo, ma perché bisogna mettere a decisione dell'arbitro quando conviene? Quando conviene, il VAR interviene, quando non conviene, il VAR non interviene. Se c'è un errore, il VAR deve intervenire, o un presunto errore, chiama l'arbitro, l'arbitro va a vedere, poi oggi magari Mariani andava a vedere e confermava il rigore. Bene, bene. L'ha riaccettato di più, ma non così che gli dico, ah no, ah no, il VAR non poteva intervenire. È l'intervento olivissimo, e gli dico, sì, l'intervento olivissimo, che significa? Quindi lo chiami, e quindi togli il rigore, eventualmente. No, rischiamo di perdere la partita, perché? Perché il VAR non può intervenire, perché l'arbitro, in questo caso, il protocollo dice che su questa situazione non può intervenire. Oh, togliamo sto protocollo, togliamo sti alibi, perché sono solo alibi questi qua. E io ripeto, io voglio andare in panchina con la cosa di avere una cosa onesta, onesta, che non ci siano dei protocolli di dire no qua può intervenire, qua non può intervenire. Scusate. Grazie, buona serata. Buona serata.